Ci proviamo, perché così non va bene. Sembrano più disfattiste che ottimiste le parole del sindaco Luigi Mennella in riferimento alla rimodulazione del calendario di conferimento dei rifiuti che entrerà in vigore a Torre del Greco il prossimo 23 ottobre e che prevede nella sua parte innovativa il monoconferimento differenziato giornaliero, elemento per il quale, sin dalle prime ore dall'ufficializzazione, numerose polemiche si sono sollevate negli ultimi giorni da parte dei cittadini torresi dubbiosi della reale efficacia della nuova proposta. Parole, forse, nate dal raffronto con una quotidianità che racconta, almeno per la quarta città della Campania, una verità tutt'altro che virtuosa riguardo un problema endemico del territorio, risalente nella memoria storica collettiva. Perché così troviamo ancora la città sporca, perché non siamo probabilmente abituati a differenziare in modo giusto, perché si conferiscono sacchetti diversi nello stesso punto e quindi è difficile la raccolta e farla differenziata, perché così facendo dagli ultimi dati le persone pagano di più e hanno un servizio mancante, perché continua a esserci la città sporca con gli ingombranti e quindi vogliamo cambiare. Sindaco, le ritiene che questo nuovo calendario di conferimento è in via sperimentale, una sperimentazione o ritiene che sarà quello che definitivamente traghetterà sino alla scadenza dell'attuale piano? Il tempo ormai stringe, in realtà credo che questo sia l'inizio dell'ultimo anno, del quinto anno sostanzialmente, quindi voglio dire, mentre incominciamo a lavorarci e a dare le risposte credo che passi anche il tempo per cui ci sarà sicuramente un mondo nuovo, anche perché stiamo lavorando così come voi tutti sapete, perché l'abbiamo messo nel programma sulla municipalizzata e siamo sicuri che funzionerà tutto in modo diverso. Non mancano tuttavia, nelle parole del primo cittadino, anche accenti di rigore sulla linea che l'ente amministrativo di Largo Plebiscito intenderà assumere nei confronti delle aree urbane, dove si registra tutt'oggi un conferimento giornaliero indifferenziato e nei confronti di qualunque cittadino che non dovesse attenersi a quanto disposto dal nuovo calendario. Una volta fatte l'informatizzazione, insomma, informalizzare le persone, metterle davanti alla consapevolezza che esista una cosa, tolleranza zero per tutti. Ma prima della via del rigore, necessaria è quella della diplomazia. La città è nostra, mantenerla pulita è importante perché ci viviamo noi, vivono i nostri figli e così diamo una qualità di vita sicuramente diversa. Questo è l'appello che faccio alla cittadinanza e faccio un ulteriore appello. Lo dico oramai in tutte le interviste che faccio. Coloro che dovessero vedere, persone che mettono e buttano gli ingombranti, per cortesia passateci le foto con le targhe, per cortesia aiutateci a questi delinquenti, prima o poi li prenderemo.